Quest'anno a Maisdomani Precision Planting partecipa con una seminatrice di precisione Kinze 8 file allestita con display 20-20, Delta Force, V-Set V-Drive, Speed Tube e Smart Firmer. Qui in campo possiamo apprezzare i benefici e i vantaggi dell'utilizzo di una seminatrice di precisione Precision Planting. Grazie a Delta Force abbiamo avuto un'emergenza uniforme e omogenea, come possiamo vedere dalle dimensioni dello stocco e dall'uniformità della tesi. La seminatrice è dotata di V-Set V-Drive, un sistema elettrico di dosatura del seme. Questo porta al beneficio di avere chiusura delle sezioni e possibilità di rate variabile, come possiamo vedere nella tesi 1, dove abbiamo semina 8 piante a metro quadro e nella tesi 2 semina 10 piante a metro quadro. Grazie a Speed Tube, un sistema di deposizione del seme innovativo, otteniamo singolazioni con precisione prossime al 100%, come possiamo vedere qui a Maisdomani. Otteniamo dati agronomici mentre stiamo seminando, grazie a Smart Firmer. Smart Firmer è un sensore che misura sostanza organica, temperatura, umidità e livello di chiusura del solco. In definitiva, il sistema Precision Planting permette di ottenere i risultati come qui possiamo vedere a Maisdomani.